A Bari un'auto ha imboccato la tangenziale in contromano causando un incidente nel quale è morta una donna di 50 anni con altre due persone gravemente ferite. L'impatto è avvenuto questa mattina sulla Statale 16. Il traffico sul tratto di strada interessato è stato bloccato per consentire la rimozione dei mezzi. Secondo quanto si apprende, le altre due persone ferite gravemente sono quelle a bordo dell'auto che procedeva in contromano.